Un litro di benzina per ritornare due, due, va per ritornare un po' e poi inizia la tua vita per il cammino e poi inizia la tua stanza ah non c'è capito non c'è capito non c'è capito non c'è capito ok Svegliana 13 minuti arriva a casa capito? 13 minuti andiamo a casa 13 minuti e speriamo è il sole mi sa che potremmo uscire però Caccia qua? dite una battaglia alla mas Sì 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 quindi si 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 dite qui l'agra dite di lago di di via di cascaccia di Sì, ok. Qui hanno cambiato, prima non ero passato. Ahah, davvero? Uscita a Roma, a Casia, lago di Brasciano. No, no, lago di Brasciano ci siamo andati, vero? Sì, Brasciano. Sì. Sì, ma l'ho visto il cielo. Pisano, Brasciano. Ah, ah. Nood ka rin ang videos ko, ha? Pero wag mong patayin ang ads. Paray ko. Patawak. Ano kong makakakwa ng studio diyan? Sa ads? Sa... Sa advertisement, tapos, Senz kalang, 20 senz every ads, tapos. Io vado verso su, perché quando ciro poi posso girare così, eh. Ok. Dov'è la fermata più su? Dito, c'è fermata qua? Si fermo qua? Sì, va bene. Ok. Dito ka baba, dito ka baba, dito ka baba, dito ka baba, Ronnie, dito ka baba, Ronnie. Ok. Tingnan mo yung ano, may sasakyan diyan, sasakyan, may sasakyan diyan. Sa kabila ka. Aspeta, aspeta. Aspeta, aspeta. Ciao, ingat ha, ingat. Ok. Ok, ciao ciao. Tento, more. Ma che mi sta arrivando. Sta arrivando macchina di qua. C'è tante macchine. Si, dall'altra parte no. Ce l'ha pure, ce l'ha, poi ce l'ha due. Ok. Io la guardo qua. Dopo di questa macchina non c'è, però c'è qua, c'è. C'è la tante, di qua no, io ti guardo qua. Non c'è qua, ok, va bene. Così io posso rigirare di nuovo. Ah. Di qua? Eh. Ah, ok. Ok, siamo continuato a raccordo anomalare adesso. Uh, bene, bene. Almeno l'abbiamo... La forma lo sapevo, carino, qua. No, almeno l'abbiamo portato a lui. Molto bravo ad aiutare di là, eh. Si, ma c'è un maestro lavoratore. Eh, bevi, però... Non torno mai se sta bene, vabbè sto con video, oh bella questa strada, è bella questa, Allora, questa è vecchia, vecchia tunnel, vecchia nella ciuscita, però è un grande? Ah, un vento grande. Abbiamo un po', perché senti la sua... Bellissimo. Si. è stato un video attento di entrare nasa expressway qui qui ancora we're on the expressway again heading back home naki birthday kami do'n malamig pero di ako nilabig naka winter jacket alam kong paggabi na eh lalamig din ok ok ah per kasi nila ah it's close ah ah wow belda sunset sunset oh ilan din ang tunnel dito gabi anang araw nakailang gabi na kami nakailang araw nang araw i remember when we were in taiwan pag pumasok kami santano sasabihin namin another night what's the day today now another night and then then napalul ano nakailang gabi na tayo anang araw ang inay pag pag pagpapas ang pintana we're on the highway highway to heaven highway to heaven ayan matakbo na naman masawa po na 130 nasa highway kasi 1.30 na naman siya pag walang sasakyan sa 3-way lane mag-stay sa fast lane you always maintain on the right side saka ka lang pupunta sa fastest lane kapag ikaw mag-overtake sa 2 lanes dito sa right way don't use the fast lane kahit tumatakbo ka ng 130 that's one of the hold of the road kailan naman kami malapit saka naman ito magkakat makikabulo eh madonna makikabulo kasi ma come gli pare proprio quando stiamo vicino e vai davanti ma ti rendi conto ma ti rendi conto ma ti rendi conto perché per lampeggiato lo capisci c'è davvero qualche autista che non la frega niente e delle persone dietro non guarda prima di andare dall'altra parte ma più calassalotti prima valle fiumicino e aurelia dove dove usciamo mahal secondo te aurelia no e allora non mi ricordo mahal fiumicino maliana isana maliana pero via bucella poricua ah guarda we're going ma guarda guarda vegetable garden third vegetable garden nila cuya rene ma anna nila si si pag nila ati cuya rene la trova sempre tanti cose per piantare no mamma mia quella più grande e più bella di tutti però tutti tu quelle là quella salaria quella di concadoro loro già piantato di là ha detto però mi sembra che et che stava là allora questa qua è di cuya rene e ati pass è bello tutti quelli che piantano loro mamma mia che fortuna e l'anno scorso la roba lì a concadoro ci ha mandato il concadoro due volte pure no expert sunset may araw pa gabi na actually ano na eh alas 8 na ng gabi may araw pa dito magsa sunset pa lang kami pasado alas 8 this is italy pag summer hanggang alas 9 parang may araw pa diba diba ah nalaga atang bridge lang ganda nam mga bahay ito dobbiamo uscire quello la sta camminando in mezzo e non cammina bene stanno come della terza corsia e stanno in mezzo come su veloge belola mento asia